Il primo e unico gruppo che avrà questo onore. Allora, adesso con noi vogliamo disegnare la benedizione della pelle. Sono belle! Facciamo sollezza adesso, accogliamo la preghiera e poi passeremo noi, quindi non scappate via, non vi muovete, non vi muovete al posto, ma vi muovete da voi. Gesù è il maestro dell'umanità. In Lui ciascuno trova un punto di riferimento centrale. Gli studenti sono chiamati a guardare a Gesù, perché ci sa che. Grazie! Chabasini tuttiamo, saldetti. Ancilla, saldetti. Saldi! Sì! Allora! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.